Bella ragazzi, io sono Martix, bentornati su una nuovissima guida di Ford In questo video dovremo trovare i gonfiabili di Deadpool allo yacht Anche se non viene segnato sulla mappa come luogo indicato, ragazzi, vi basterà aprirla e puntare a nord Precisamente su E1, ecco qui il nostro yacht, ci lanciamo e troviamo subito questi gonfiabili La missione per essere completata ne richiede 3, ovviamente in questa zona ce ne saranno di più Comunque seguite questo mio percorso Allora, primo gonfiabile, lo prendiamo, ci spostiamo subito sul secondo, ricordatevi questo container di colore arancione Da qui ragazzi passiamo subito sullo yacht e andiamo per di qua, sulla sinistra Prendete come punto di riferimento quell'ombrellone, proprio lì sotto ci sarà il secondo gonfiabile Eccolo qui ragazzi, molto facile Adesso invece ci spostiamo subito sul terzo Dall'ombrellone create qualche rampa giusto per recarvi un po' più avanti Continuiamo ragazzi sempre verso nord Scendiamo per di qua Ricordatevi questo piccolo stanzino Terzo ed ultimo gonfiabile Se questi non vi bastassero ragazzi, torniamo un attimino indietro Ve ne mostro un altro velocemente Allora, ce ne sarà uno proprio posto Vediamo, vediamo se riesco a vederlo In quello stanzino Praticamente la parte più alta dello yacht ragazzi Vi basterà rompere qui ed ecco un altro gonfiabile Lo prendiamo e completiamo la nostra missione 35.000 punti esperienza Ragazzi miei, io spero di esservi stato d'aiuto Comunque ce ne sono tantissimi altri in giro Mi raccomando se il video vi è piaciuto Un bellissimo like Condividetelo con tutti i vostri amici Se ancora non lo avete fatto Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo in una prossima video guida Un salutone da Martex See ya, brothers